Il primo attrezzo che presentiamo qui da Villeata è questo attrezzo che serve per stimolare principalmente la circolazione alle gambe e tonificare nello stesso tempo i muscoli dei quadricipiti e anche dei glutei. Facendo questo movimento c'è la possibilità quindi di riscaldarsi per prepararsi ai futuri esercizi. Continuiamo a fare questo esercizio per circa 5 minuti come riscaldamento. Ecco una volta che ci siamo riscaldati e abbiamo terminato possiamo continuare il nostro riscaldamento andando su questa specie di cicletta e continuiamo a riscaldare principalmente i quadricipiti. Questo esercizio su questo è una specie di bici si spinge i piedi in avanti contraendo quindi i quadricipiti ecco si contraggono i quadricipiti e poi ritorniamo indietro in questo modo andiamo a sfruttare la forza del corpo libero spingendo avanti e tornando indietro trattenendo c'è la possibilità anche di utilizzare il dorso facendo un esercizio completo di gambe, braccia e dorso in modo tale da aumentare la circolazione e di aumentare anche il metabolismo stimolando tutta la catena cinetica in questo modo e quindi